Intanto volevo soltanto sottolineare una cosa, che io non ho detto che Elisabetta non prende posizione come ha appena detto Matilde, ho detto così esci fuori, esci fuori nel senso con quello che mi devi dire, perché quando Elisabetta è uscita dal Tugurio, io le ho detto Elisabetta ma hai da dirmi qualcosa, perché ho notato nel tuo sguardo qualcosa di... Si però risponde in modo diretto alla mia domanda, perdona, perché era una domanda diretta, quindi vorrei una risposta. In Elisabetta ho trovato quel giorno in cui c'è stata questa discussione una non verità nel dirmi che si sparla e che sono come il prezzemolo che sto sempre in mezzo a tutto, e questa cosa mi ha dato fastidio. Perché è un prezzemolo Elila, Stefania? Perché io avevo fatto una premessa, si sentiva e si respirava un'aria molto tesa da giorni, quindi avevo spesso il desiderio di poter passare una serata tutti insieme a ridere e scherzare, perché secondo me ce lo meritavamo. Inerente a questa cosa lei ha cominciato a dire la sua e io poi le ho detto questa cosa qui che è il prezzemolo, perché spesso e volentieri in tutte le conversazioni, quando lei arriva, che magari la conversazione è già inoltrata, è già iniziata, lei si siede lì e poi magari dice la sua. Ma perché lo fa secondo te? Per mettersi in mostra come sostiene Matilde? Ma no, secondo me lo fa perché ha capito che va bene fare questa strategia di gruppo, no di gruppo, questa strategia, nel senso che comunque se stai sempre su, in ogni, non voglio dire in ogni discussione, in ogni discorso magari sei all'interno di, sei presente dentro la casa, ecco.